Senatore Roberto Calderoli, qual è la posizione della Lega Nord sull'istituzione di un comitato parlamentare per le riforme? Noi abbiamo sostenuto l'istituzione del comitato, per comitato rende più veloci le riforme. Noi abbiamo sostenuto la proposta, però adesso bisogna fare i contenuti, quindi quando si parlerà di riduzione dei parlamentari noi vogliamo il dimezzamento, vogliamo il Senato federale, vogliamo che il federalismo si attui sia in senso legislativo ma anche fiscale mettendo in essere i costi standard che sono stati accantonati da Monti. Solo nel settore sanitario applicando la quota pro capite della regione Lombardia si recuperano all'anno 27 miliardi, cioè l'equivalente di una finanziaria. Ma voi siete ottimisti nella buona riuscita di questa riforma parlamentare? Guardi, questa è l'ultima possibilità che c'è per attuare una riforma, è una situazione particolarissima, se anche in questa occasione il Parlamento e i partiti non capiscono che le riforme vanno fatte, veramente è giusto che la gente venga a casa a prenderci. Ecco, i 40 saggi, la Lega Nord che cosa ne pensa su questa decisione? Ma guardi, i saggi sono 35 più 7 più 2 quindi arriviamo addirittura a 44, meno si vedono e meglio stiamo.